La Questura di Teramo annuncia l'arrivo di rinforzi dal Ministero per presidiare a tappeto il territorio di Alba Adriatica, Martinsicuro e Villa Rosa durante il periodo estivo. Il nuovo servizio di controllo e sorveglianza da parte delle Forze dell'Ordine è stato attivato già dal 1 luglio insieme all'apertura di un posto di polizia ubicato nei locali dei vigili urbani di Alba Adriatica. La zona nord del Terramano si conferma dunque il territorio più a rischio della provincia dove si concentra il maggior numero di reati per furto, spaccio e prostituzione senza parlare degli ultimi due delitti avvenuti lo scorso mese di giugno, l'omicidio del ragazzo Rom e dell'oncologa Esther Pasqualoni. Siamo partiti come l'anno scorso con l'apertura di un presidio di polizia chiaramente temporaneo quest'anno nella zona di Alba Adriatica, ci siamo spostati perché abbiamo visto che Alba Adriatica rispetto alle altre località della zona nord è quello che ha avuto i più eventi delittuosi e quindi dal 1 luglio siamo presenti in quella zona attraverso proprio un presidio più sostanzioso di uomini e di mezzi. Ma limitato all'estate? Sì, questo è un discorso che è limitato all'estate, noi già comunque presidiavamo anche durante gli altri periodi dell'anno questa zona che è particolarmente a rischio per l'alta presenza di pregiudicati ma visto il notevole afflusso anche turistico dal 1 luglio abbiamo stabilito un servizio fisso di volante, quindi ci saranno delle macchine dedicate esclusivamente a quella zona che faranno poi capo a dei locali dove noi ci appoggiamo che ci sono stati gentilmente concessi dal sindaco di Alba Adriatica a cui faranno capo appunto queste macchine nel caso dovessero redigere degli atti o delle attività che vengono svolte. La situazione non è di particolare gravità però visto che c'è questo notevole afflusso di persone e visto anche i recetti e episodi criminosi che si sono verificati in quella zona, noi già preventivamente avevamo predisposto questo piano che continueremo comunque a predisporre ogni estate. Le misure di controllo e prevenzione che saranno messe in atto dalla Questura per il periodo estivo e che si concentreranno in particolare sui comuni di Alba Adriatica, Martinsicuro e Villarosa sono state concertate da tempo in sinergia con il prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi.